Il conto alla rovescia per la settima edizione del Grande Fratello Pip è ormai iniziato, Alfonso Signorini e la produzione del reality show targato Canale 5 in questi mesi sono impegnati a scegliere quelli che presto diventeranno i nuovi vittori. Al cast in questi giorni è stato accostato il nome di Diego Armando Maradona Junior, il figlio del Pibe de Oro. Tuttavia in Lizza ci sarebbero anche Ginevra Lamborghini, sorella della tanto amata cantante e influencer elettra Lamborghini, George Shoupilan, nota al pubblico del collegio in onda su Rai 2, Pamela Pratish, girl di fama internazionale che banta nel suo curriculum molte partecipazioni a programmi televisivi di spicco, Antonino Spinalbese, ex compagno dell'apprezzatissima showgirl argentina Belen Rodriguez e Evangelina Sgarbi, figlia del critico d'arte Vittorio Sgarbi. Confermate nel ruolo di opinioniste Sonia Bruganelli e Orieta Berti, le due donne saranno chiamate a giudicare il percorso dei GFini dallo studio di Cinecittà. Il reality show tornerà in onda su Canale 5 con ben due appuntamenti settimanali in prima serata, come avvenuto in occasione della sesta edizione. Per il momento è tutto, gentili ascoltatori, non ci resta che tenervi come sempre aggiornati con nuove anticipazioni sul mondo della TV. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e se vi va iscrivetevi in massa al nostro canale YouTube. Grazie.